L'ultima settimana ha consegnato i primi due colpi ufficiali in entrata per il Pescara con gli innesti degli esterni Andrea Cisco e Cristian Galano. Prende pian piano forma un reparto d'attacco che era da ricostruire. Sempre dal settore esterni altre dinamiche vanno monitorate. Andrea Sottil ha fatto subito sapere a stagione finita al DS Giorgio Repetto che sarebbe felicissimo di tornare a giocare in biancazzurro anche nella prossima annata. Anche il Delfino è pronto a riabbracciarlo visto il rendimento e le potenzialità espresse da febbraio a maggio. Sottil però partirà per il ritiro della Fiorentina dove sarà visto all'opera per la prima volta dal tecnico Montella. Quando a gennaio si fece l'operazione c'era ancora Pioli sulla panchina viola. Sarà poi Montella nel caso a dare il placet al rinnovo del prestito. Sul fronte attacco ora si cercano soluzioni importanti per quanto riguarda il centravanti. Continua a circolare il nome di Pietro Iemmello soprattutto nell'ottica dell'operazione Brugman Benevento ma il giocatore percepisce un ingaggio troppo alto e questo è un altro grosso ostacolo. I direttori Repetto e Bocchetti continuano a stondare il mercato per dare a Zauri che al momento può contare sul solo Bunino di rientro dalla Juventus Under 23 la sua principale bocca da fuoco. Un colpo magari low cost ma proficuo un po' come in passato è successo per i vari Immobile, Melchiorri e Lapadula laddove invece i nomi più celebrati e affermati hanno invece faticato. Negli altri reparti ci sono minori esigenze di ricostruzione. Senza la partenza di Brugman il centrocampo c'è con il capitano più Memushai e Crecco. Al momento in organico c'è anche Frank Canutè. Filippo Melegoni avrà il prestito rinnovato. Questa settimana può essere importante però per un innesto, quello della mezzala Massimiliano Busellato. Il giocatore in uscita dal Foggia è pronto a legarsi al Delfino al culmine di un'operazione già impostata da una decina di giorni. Non appena il giocatore sarà formalmente liberato dai satanelli prossimi all'esclusione della Serie C, si procederà alla ratifica dell'accordo. Anche la difesa può contare su diverse certezze. Con Balzano e Ciofani a destra, con Bettella e Scognamiglio al centro, potrebbe salutare Perrotta, corteggiatissimo dal Bari, in stand-by la decisione su Campagnaro. Per quanto riguarda la corsia sinistra, si attende la decisione di Cristiano del Grosso sulla proposta biennale del Monza. Il Pescara è in cerca di un laterale mancino, ma con l'eventuale partenza del terzino giugliese, l'intera batteria di quella fascia andrebbe ricostruita. Difficile arrivare a Filippo Costa della Spal, anche perché sul calciatore ci sono anche Perugia e Frosinone. Più probabile l'ipotesi di riavere dal Parma Giovanni Pinto. È concreto anche l'interesse per l'abruzzese Tommaso Dorazio negli ultimi due anni a Cosenza, squadra cui è legato fino a giugno 2020. Le prossime ore saranno importanti anche sul fronte ritiro. Nei programmi, Zauri e la squadra lavoreranno a Lucori dal 14 luglio, ma se gli impianti nel piccolo centro aquilano non dovessero essere pronti, i bianchi-azzurri inizieranno i loro lavori a Palena.